Eh, questo è amore, no? Sì, sì, sì. Siamo pronti, eh? Ok. Allora, li dobbiamo... Oh, ti ho fatto di male. Ah, no, ti ho fatto di male. Eh, beh, mi sembra. Oh, così, dai. Li dobbiamo dividere. Ti va bene? Come a scuola. Sì, va bene. Siamo pronti. Ecco un betelente. Allora, quella volta, forse. Sono tornato a casa più terrorizzato che se avessi visto un film d'orrore o come è stato da lì a poco tempo, non so, quello che racconto, il film che mi ha fatto più paura era Bambi, perché quando mi ricordo, l'ho detto, quando ammazzano la mamma di Bambi, a me mi hanno dovuto portare a cinque anni fuori dal cinema e non la smettevo di piangere. Mi invito ancora a una vecchia conoscenza del festival, ormai ne ha passati parecchi, insomma, Federico Scargiali, signore e signori. È sempre molto meglio fare il musicista. Il musicista, sì, il musicista che abbia molto di più. Il musicista è zero perché c'è mille pensieri, c'è sempre le ansie. No, zero. Poi il musicista è quello che è sul set, qualcosa. No, no. Sì, sì. È il fonico, è la scelta che funziona nel cinema. Non mi dire che non sembra italiano. No, però... Ti stavo per rire a coltellare. No, odio quando... Non sembra italiano. Però dal punto di vista linguistico ho calcato molto la mano, ho cercato di dare una personalità a un film. Bene, signori, detto questo, lasciamo spazio alle immagini e divertiamoci un po'. Buona misura. Grazie.